buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi mercoledì 25 gennaio 2023 parleremo della notizia del giorno quella notizia che riguarda la mobilità 2023 2024 e probabilmente il condizionale e d'obbligo parleremo dell'emendamento che andrebbe a prorogare i vincoli della mobilità di un anno domanda numero uno qual è lo stato dell'arte per la mobilità 2023 2024 riguardante l'eliminazione dei vincoli triennali per i neoassunti ebbene sui vincoli della mobilità 2023 2024 c'è un'importante novità fratelli d'italia presenta il seguente emendamento al decreto mille proroghe che ricordiamo sarà convertito in legge per la fine del mese di febbraio entro febbraio si intende proprio un emendamento il particolare l'undici bis che così recita sono prorogati per l'anno scolastico 2023 2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili cui all'articolo 1 comma 108 della legge 107 in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto possono partecipare ai trasferimenti ai passaggi di ruolo e dunque anche si intende quelli di cattedra utilizzazioni assegnazioni provvisuali di tutto il personale che in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022 chiaramente bisognerà anche attendere che venga votato questo emendamento e che passi il decreto mille proroghe perché possa diventare effettiva questa norma di legge quindi sarà recepita dal contratto integrativo sulla mobilità e probabilmente diventerà diciamo norma effettiva almeno per l'annualità 2023 2024 domanda numero due quali saranno i tempi di presentazione della domanda di mobilità 2023 2024 e quali le procedure di presentazione della dell'istanza tra la fine del mese di febbraio e i primi dieci giorni di marzo si potrà presentare la domanda di mobilità territoriale e professionale dunque passaggi di ruolo e passaggi di carta per l'anno appunto scolastico 2023 2024 la procedura di presentazione della domanda sarà telematica utilizzando come sempre le istanze online del sito del ministero dell'istruzione e del merito domanda numero 3 quando saranno pubblicati tutti gli esiti della mobilità 2023 2024 anche in questo caso possiamo dare delle date anche se non precise perché si dovrà attendere l'ordinanza ministeriale sulla mobilità per avere diciamo date precise però in maniera orientativa gli esiti della mobilità saranno resi pubblici verso la metà del mese di maggio giorno più giorni in meno mentre gli esiti per il personale ata sarà successivo sarà verso la fine di maggio massimo gli inizi di giugno i primi giorni di giugno speriamo che le risposte a queste domande molto importanti perché diciamo riguardo del destino di tantissimi docenti che affronteranno la prossima mobilità 2020 24 siano di vostro gradimento e soprattutto di vostra utilità ringrazio a tutti e alla prossima puntata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti